...dopo che ieri hanno chiuto la giornata con l'ultima parte della nottata in grande spettacolo ci sono cercati i ragazzi del Casse 125 con una lunga serie di politici, di mangi di recupero, di last chance e di prove cronometrate si è arrivati a 40 parcheggi che ieri hanno animato il primo appuntamento stagionale con il campionato europeo della classe 125 questo è il warm up per la presa di contatto per loro